a ragazzo non morto alla fine bobo continuo un po perché sono morto ho messo tutti i passaggi là non ci vai perché sarà una perdita di tempo ahia oddio comunque raga non ci fate caso su quelle cose che appaiono quando spingo il puzzantino il mio ods succede perché il mio ods il super vecchio quelli super vecchi fanno queste cose oppure non lo so ma si il super vecchio ho cambiato come si dice e ho cambiato le alcune grafiche aia oddio non ci riesco mai mamma mia non ci riuscirò mai guarda guardate non ci riuscivo adesso ce l'ho fatta ah il fuoco il fuoco oh dammi i soldi oh oh manca poco io mi faccio le vite dai vita no oddio no no perché mi è caduta la navita boh no 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 noi non ci credo no ma perché maие mario mario sei sarà fatto male il sedere le su트�IA pette dolci tantan tanto mario evo valvaggio tantan Golden mario evo valvaggio tantan totta mario evo magio tantan totta mario e novaggio tantana mario evo tan antan val Babylon maio evo valvaggio proprio si 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 mario è bel magio mario è il babaggio mario è il babaggio aia devo sopravvivere la presa ok presa la seconda vai si ah ok mi sarei bloccato ah qui ero rimasto beh non mi serve la tartaruga non mi serve nemmeno un passaggio segreto oddio grazie del fungo qui da qualche parte c'era di una stella no forse era su un altro super mario qui no qui nemmeno oh non l'ha preso niente vai che ce la faccio vai che ce la faccio e vai che non ce la faccio e vai che non ce la faccio e vai e vai quanto manca e mamma mia quanti livelli e oddio mi sa che faremo un pochino di episodi eh si 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 allora come si saltava si me l'ho subito scordato come si saltava lo sape sono già stato qua ah oddio guardate ho capito dove è la stella siete pronti a capirlo? guardate è un po' questa l'aspetto che va ci metti in sacco si forse ho capito vediamo spero oddio eh mamma mia due vite si sette mi usate vite raga vabbè però non abbiamo preso la moneta stella questa mi da un pochino rirabbia ah l'avevo bena preso non è non è non è non è non è non è Aspetta, forse ho capito dov'è vai no forse era la secondo me aspetta vediamo più avanti no oh yeah no grazie ma devo prenderla questa devo prenderla l'ultima stella di questa secondo me era proprio la sopra siete pronti a scoprirlo andiamo raga ce l'ho fatta oddio dopo anni anni oddio ce la posso fare eccola lo sapevo lo sapevo che era lì ho giurato giuravo lo sapevo lo sapevo che era qui lo sapevo che era la lo sapevo che era lì lo sapevo mamma mia vabbè raga concludo quell'episodio lasciate un commento e mi piace se non siete ancora iscritti iscrivetevi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao